niente siamo qua nella svizzera intendiamo provare dei droni a rischio del resto no anche perché io sono proprio per confine tra zona aeroportuale perciò sono così così infatti non alzero i droni più di una quindicina di metri non li alzero fatto sta che adesso andiamo a provare un idea 7 un drone nella le idee un drone con gps un piccolo drone richiedibile che ha una mantenuta di altezza una stabilità incredibile diciamo alquanto impeccabile e poi andiamo a provare per la prima volta l'SG900 un drone che io avevo già però ce l'avevo senza gps che appunto ieri mi si è pure bruciato e niente ora vediamo come va ecco ragazzi siamo alla location un pratone verde dove qua comunque sia non c'è mai nessuno e ho la possibilità di provare i droni su un ampio faggio niente adesso procediamo con l'installazione di droni 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 l'installatore l'installatore il l'installatore 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.